Eccomi ragazzi, sono io, statemi a sentire. In questa operazione tigre bagnata del terzo episodio di Sly 2, la banda dei ladri, dopo che Murray ha aperto la bocca dell'elefante, adesso tocca a Sly Cooper, capite? Dobbiamo inserire il super candelotto 500. Una volta inserito il super candelotto 500 nella bocca dell'elefante, dobbiamo scappare il più in fretta possibile verso l'altura. Così Rajan uscirà allo scoperto e possiamo sconfiggerlo e prendere l'altra metà del cuore di Clockwerk. Voi intanto andate a vedere altri video che ho già recensito e pubblicato sul canale, gli Sly 2. Io vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto condividetelo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, parola di Gabriosta, facendo questo video sono molto contento. Andate a vedere quando seguo Nila e quando sconfiggo Rajan per concludere il terzo episodio. Arrivederci a tutti. Grazie. 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 Grazie.